Non capisci, Gideon? Tutto un tratto ho capito che cosa dobbiamo fare. So che ti sembrerà una follia sulle prime, ma se ci pensi bene allora capirai che sarà magnifico per tutti noi. Voglio adottare un bambino. Vorrei spingerla delicatamente, sino a farla inciampare e finire distesa sul letto. Tirarle giù la gonna per scoprire un paio di semplici slip. Vedere i suoi occhi chiusi, ansiosa di soddisfarmi. Di cosa si sono riempiti tutti quei giorni, che si sono rampicati sul mio corpo, come formiche su un tronco di legno? Grazie a tutti.